Il bianco e il rosso sono i colori di Moncalvo, importante centro a Monferrino, il comune astigiano dista 20 km dal capoluogo ed è noto per la sua indiscussa tradizione no gastronomica e per essere stato capitale del Marchesato del Monferrato. Ricco di storia, le cui vestigia si possono ammirare ancora oggi, ha tra l'altro dato in Natalia Rosa Vercellana, la bella Rusin, moglie morganatica di Vittorio Emanuele II. Moncalvo ha vinto il palio nel 1988, 1989, 1994 e 1995, tema del suo corteo storico le uova di struzzo e l'albero della vita e i rispettivi significati e simbologie cristiane.